Musica 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 Becchia salita di sazzi e cipresi La tua chiesetta appoggiata nel blu Peppino! Ruff! Mi pari, mi sto venendo Io ci temerei a venire passura qui dove regna la pace Peppi, che c'è Don Dino? Che c'è, non è normale, non è normale ognuno ha i suoi compiti in questa parrocchia o no? Sì, e qual è il mio compito? E qual è? A fare la messa? E la faccia la grande, diciamo, anche tre al giorno voglio dire, non è che la fanno tutti e il tuo ruolo qual è? Qual è? Qual è il tuo problema Don Dino? Cioè, allora, il campanile non funziona è una settimana Allora, lo so, devo chiamarlo orologiaio e me la vedo io Ci stiamo, ci stiamo Lo diciamo e non andiamo a farlo E poi, gli orari della catechesi Bisogna cambiare da un mese stanno sempre quelli, sempre quelli sono, dai Sì, sto finendo di scrivere gli annunci e li devo mettere in bacheca me la vedo io E poi, Peppi, c'è la cosa più importante finisce il matrimonio tutto il riso a terra guarda che ieri veramente i bambini possono pur cadere ieri non si capiva niente qua a terra Don Dino, sta tranquillo che l'ho levato tutto io me la so vista io Ehi, che mangiamo stasera? Risotto Ci accolò bene, però Tranquillo, non si chiedeva Va bene, non si chiedeva Che era per noi Santa Maria Grazie a tutti Grazie a tutti